Due amici. Mario, ma veramente ti sei separato? Ma com'è successo? Vuoi sapere com'è successo? Un mese fa è stato il mio compleanno. Mi sono alzato la mattina, mia moglie non mi ha fatto gli auguri e i miei figli vanno a scuola come tutte le mattine, non mi hanno nemmeno salutato. Arrivo in ufficio ai miei colleghi, nessuno di loro mi ha fatto gli auguri. La mia segretaria appena mi ha visto mi ha detto auguri capo. Mi sono sentito speciale, mi ha invitato a pranzo, abbiamo mangiato, bevuto, riso e parlato per più di un'ora. Poi mi ha invitato a casa sua. Appena arrivati mi ha detto ti dispiace se vado un attimo in bagno? Dopo cinque minuti è rientrato nella sala da pranzo con mia moglie, mie figlie e tutti i miei colleghi che urlavano buon compleanno! Io ero seduto nel divano completamente nudo. Ciao! 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 Ciao!